Buongiorno, saluto allo zio, buongiorno, siamo giusto su un paio di barche e sette. Buongiorno, saluto allo zio, buongiorno, siamo giusto. Buongiorno, saluto allo zio, buongiorno, saluto allo zio. Era troppo per non essere piano, con calma, con calma mi chiederebbe l'unice. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Bello ma sempre di canna, non lasciargli la trazione così, sempre peso, devi sentire sempre il peso. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Piano, 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 perché è un pauro enorme. Piano, alza piano, alza piano, 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 piano. Guarda che ha preso con lo zio Pepe. Andiamo. Mamma mia. Rossellino. Rossellino. E a Catania abbiamo i pauroni. La migliore, la migliore, la migliore. Mamma mia. Sto sentendo che animale c'è qua. Che ti avevo detto Bruno Paolo. Grande Zio. Guarda come è pianta. Guarda che colore. No, vabbè. Tant'è la salama. Sì, non sei sicuro, no? 6-7kg. Zio Raffaele con il suo primo dentice corazziere di taglia a Catania. e allora ci stiamo ritirando un bel commento al freddo a freddo sei freddo vero ragazzo non ci sono parole, è difficile da spiegare le emozioni che si provano in questi momenti specialmente con un maestro come Pepe maestro, compagno di pesca e maestro facciamo vedere, portatevi a vedere consigliato a tutti c'è ragà, di che parliamo salutiamo il capitano a questo punto anche l'esca fargli vedere quella che ormai esca è diventata e anche qui diciamo bene bene, chiamarla esca abbiamo fatto anche lo spuntino è che non esca vabbè non le esco tutte e poi questo ciao carletto manchi sempre bene, bene, bene ecco Grazie a tutti.